non vediamo l'ora che inizi dobbiamo ancora però prepararci truccarci ma ci siamo quasi I love fashion tv Seconda edizione della Spilata del Pincio Bologna Valley secondo anno grande successo l'anno scorso è la voglia di ricominciare degli imprenditori del nostro distretto è la voglia di tornare a fare impresa La moda unita al territorio Bologna è la capitale della moda pronta del Made in Italy una moda pronta fatta a chilometri zero Bologna è una moda pronta fatta a chilometri zero Bologna è una moda pronta fatta a chilometri zero Bologna è una moda pronta fatta a chilometri zero Bologna è una moda pronta fatta a chilometri zero Bologna è una moda sostenibilità amore e passione è un nuovo modo di affrontare i mercati internazionali partendo dai veri contenuti della moda Bologna è una moda pronta fatta a chilometri zero Bologna è una moda pronta fatta a chilometri zero